L'ho fatto! Questa è una bella ponte e il Cairano sopra In alto Cairano Ma sta antenne quando sopprutta Eh, però, però Ma no, questa l'hanno fatto per la linea Però sicuramente poi lo utilizzeranno a fini Eh, però, però, però Guarda la sopra l'anemometro, la sopra l'anemometro La sopra l'anemometro è in arrivo Eh, ma oramai, questa è la deriva che ha filato, è questa Loro devono certificare l'articchio Questa è la guerra, ora facciamo la guerra per la rinocchia E ora iniziamo a fare la guerra Su queste cose Su queste cose, dicevi tutto la loro gente, popolo, attenzione Che vi stanno rubendo i coglioni Grazie a tutti la grucia di Sant'Andrea guarda, 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 guarda guarda, guarda sei tornato i pompi dell'Ofang come ele clients? sono scusate è mai salito su questo treno? no ci serve per altre cose lo sai guarda no ma lo faranno ma stai tranquillo perchè i segnali sono gli altri a loro servono dei costi mi guarda la fotografica entrate entrate chi vuole vedere su quella parte che c'è quasi dietro mi ripriva che la passa adesso è quasi come a te questo quando arriva alla stazione i macchinisti lasciano il posto che c'è uguale a questo c'è dall'altro lato quindi chiudono la porta di là e vengono di qua il treno torna indietro Volum no no stai stai vedi quello dove c'è centinaia centinaia ma dove stai passando? no 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 bello il tuo e lo so ma lo so e dove c'è dove c'è dove c'è da dove c'è stantina niente scuola no oggi loro fanno il dopo scuola ma è stato elementato le medie si lo sugo non c'è lei c'era di revolta però e poi parli con gli amici c'è stata proprio la parte la parte più importante poi si deve cuocere non c'è quanto si è capo? ora si vado a Zerico ma mi fai una foto? ma mi fai una foto? e poi la faccio io dopo la pasta dopo la pasta dopo la pasta il problema se è quale è poi Giuseppe fa un po' di spazio è quello di che è quello di mettere vicino gli strumenti in modo che mettere la mano qua vanno qua così tipo il paleolger fatti più avanti un po' più avanti poi non genererò corretto non fa niente perché il paleolger non genererò corretto non genererò corretto se vuoi questo posto devi fare il biglietto se vuoi questo posto devi fare il biglietto preparato io perché loro mi sta facendo un po' di video io pure quando faccio i video della Torino le nostre postazioni tecniche non riesco perché non va no ma non è quello perché non piace proprio stare ma c'era mettiti no no vabbè volevo vedere delle zone sotto no siamo già sotto Cairano sotto Cairano bello c'era il ponte con Cairano sullo sfondo proprio di fronte favoloso Giovanni mi ha fatto un po' di foto io l'ho fatta come video eh no è da fuori il presidente della Prologo di Gonzalo questo è uno dei grandi cittadini ma dai la teologica sicuramente ho capito ma questo è stato fatto troppo di arremonti attenzione ma ora non ci fissiamo ma quando? quella lì è brutta è brutta è brutta perché in ovviamente noi non abbiamo l'idea di appassare ma voi siete troppi non vediamo uno non vediamo uno certo il problema è che siamo sempre noi queste sono le cose a testa di cazzo tutto quello che fanno è fatto a testa però non c'erano che significa ma è una programmazione non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano sono le secondarie quasi scariche e quindi mi sto limitando quelle cose come vediamo io ci voglio però ma qualche foto senza non c'erano non c'erano non c'erano